Era uscita per prendere una boccata d'aria, ma si era persa, restando così intrappolata nel bosco. A salvare un'anziana signora sono stati i carabinieri che sono riusciti ad individuarla nel bel mezzo della vegetazione dopo due ore di ricerche. È successo a Talla giovedì pomeriggio. La donna, di 88 anni, attorno alle 18, era infatti uscita per una passeggiata. I familiari, non vedendola rientrare, alle 19.30 avevano così lanciato l'allarme. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bibbiena, che hanno dato avvio alle ricerche. Alle 21.30 due militari della stazione di Talla hanno notato un movimento tra le piante ai limiti dell'abitato di Gechena, dove ci sono poche abitazioni, per lo più seconde case. Sul posto sono così accorsi anche i colleghi di Rassina e Bibbiena e tra le piante stesa a terra è stata trovata l'anziana signora. Ci è voluto poi l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalla fitta vegetazione che la circondava. Sul posto anche i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno accompagnato la donna all'ospedale delle scotte di Siena per ulteriori accertamenti. La signora non sarebbe comunque in pericolo di vita.